Grazie. Il casco, la carrozzina, la handbike che può raggiungere 22 km orari. Bruno Galvani è ormai pronto ad affrontare l'impresa della vita, percorrere più di 2000 km per raggiungere le città dove le morti sul lavoro sono quasi all'ordine del giorno. 53 giorni in strada per sensibilizzare l'intera nazione su una piaga difficile da eliminare. Purtroppo nel 2015 gli infortuni mortali in Italia sono aumentati di ben 170 unità. Siamo ritornati ben sopra i 1.000 ogni anno. Il dramma dell'amianto tutti lo conosciamo, sappiamo che ogni anno circa 3.500 persone moriranno per le malattie sbesto-correlate. Direi che sono due temi assolutamente importanti da affrontare e da portare al centro dell'attenzione. Ovviamente c'è bisogno di sponsor. Ecco, Piacenza l'ha aiutata? Piacenza ancora una volta, con grande nostro rispetto, Bullasport ha deciso di sostenere in modo serio e concreto almeno la tappa del tour a Piacenza. Avremo un'iniziativa fatta con l'istituzione, con l'amministrazione comunale e poi il giorno 8 avremo il concerto da dedicare alle vittime del lavoro. Un altro aiuto è arrivato dalla sede piacentina di Sunrise, multinazionale di Medicare, che ha donato a Bruno una carrozzina con handbike. Come funziona? Praticamente è un meccanismo elettronico-elettrico che viene posizionato di lato, di fronte alla carrozzina e serve per dare la spinta propulsiva per riuscire a fare i chilometri che sarà necessario fare. Ha sei marce e può raggiungere anche una velocità di oltre 20 km all'ora, cosa da non farsi perché altrimenti diventa anche pericolosa. L'ex presidente provinciale ANMI e ora consigliere nazionale della stessa associazione mutilate e invalidi del lavoro partirà il 28 aprile da Monfalcone.